ricco 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 questa parola a volte diventa così tanto un mantra o una fissazione che si cerca di fare di tutto per poter raggiungere quello status o magari si vorrebbe diventare tali ma non ci si riesce mai e non se ne capisce il vero motivo si vedono sempre in giro i soliti consigli come spendi meno risparmi di più fai il budget oggi ti voglio dare dei consigli che sono un po fuori dalla retorica classica e che sono molto legate alla psicologia e bias solo superando questi sarai in grado di capire se effettivamente vuoi e puoi diventare ricco ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio come sempre sono pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario if ed autore del libro da meno 35.000 in 18 mesi tipo del quale trovi qui sotto il link nel caso tu lo volessi acquistare dove racconto la mia personalissima esperienza da cui sono passato da debitato seriale ad un investitore e risparmiatore accallito ed incanito in alcuni video delle scorse settimane abbiamo visto come sia importante andare a pianificare il tutto con un budget che ci aiuta a creare una certa stabilità finanziaria vi ho lasciato anche il mio personale budget da scaricare e vi ho anche lasciato un video dove spiego come gestisco i miei risparmi di volta in volta ma per risparmiare ci vogliono anche delle attitudini ben precise da seguire qui partendo da quel presupposto cioè che i consigli che spesso vengono dati come il budget risparmio spese ridotte siano un must per cominciare e da seguire sono anche delle componenti psicologiche che vanno affrontate e superate altrimenti tutto quello che si è detto che si dice solitamente diventa un esercizio vano ed effimero non mangiare i marshmallow in un esperimento psicologico degli anni 60 della stanford university ai bambini veniva offerto una scelta un marshmallow subito oppure la possibilità di averne due ma più tardi i ricercatori hanno deliberatamente lasciato la stanza per 15 minuti lasciando i bambini soli mentre si dimenavano e lottavano per rimandare i loro desideri immediati nella speranza di avere più marshmallow in seguito. In media i bambini hanno resistito per non più di tre minuti anche se uno su tre è riuscito a rimanere in trepidante attesa per tutti i 15 minuti richiesti e sono stati premiati appunto alla fine con due marshmallow che tanto erano sperati. Negli anni successivi il professore incaricato dell'esperimento tale Walter Mischel scoprì che i bambini che erano meno propensi e in grado di differire la gratificazione erano quelli più incline a scarsi risultati scolastici e con le minori capacità di pianificare e pensare al futuro. Ulteriori studi suggeriscono che non è un alto IQ innato o l'intelligenza che conta ma l'autocontrollo. L'abilità cruciale di chi si è soffermato ad afferrare i marshmallow non era che non volessero mangiarli ma che riuscivano a distrarsi dal loro desiderio. Alcuni erano tanto in grado di differire il desiderio che per distrarsi canticchiavano delle canzoncine. Questa lezione a metà strada fra la finanza e la psicologia di Mischel è che se sei tentato di spendere soldi per la tua carta di credito, a richiedere prestiti a ripetizione, a comprare convulsamente su Amazon, la prima cosa che dovresti fare e che devi fare è di evitare di pensare alla cosa che vuoi in primo luogo a prescindere da tutto il resto. Analizzare se qualcosa serve o meno e soprattutto può capire se sia una gratificazione psicologica o se abbiano bisogno di qualcosa, di una vera utilità specifica. Questo evita di sperperare i soldini. Forse cantare canzoncine per bambini potrebbe aiutarti. Che so, nell'esperimento ha funzionato. Chi più spende più guadagna. Nel 1985 Richard Pryor e John Candy vennero fuori col film Brewster's Million che in italiano veniva intitolato appunto con Chi più spende più guadagna. Regia di Walter Hill. Gran bella film commedia se volete guardarlo. Nel film Brewster interpretato appunto da Richard Pryor può scegliere di ricevere un milione di eredità da suo zio recentemente passato a miglior vita oppure ricevere un totale di eredità di 300 milioni di dollari con una sfida. Quella di dover spendere 30 milioni di dollari in 30 giorni. Qui però a parte la pubblicità del film che a me è preso tanto a me serve il titolo. Quante volte abbiamo comprato Wishate o Alibabate credendo di aver fatto un affarone spendendo 5 euro e poi magari dopo una settimana o un mese abbiamo dovuto ricomprare di nuovo quell'oggetto lo stesso o magari uno di qualità migliore in quanto questo ci ha lasciato da un momento all'altro. Quello che bisognerebbe fare secondo me è l'acquisto migliore in base alle nostre possibilità economiche trovando il giusto rapporto fra la qualità e il prezzo che è raggiungibile in base alla nostra disponibilità economica. Quello che due conti alla mano possiamo permetterci di comprare è che abbia la qualità migliore in base a questo parametro. Orientarsi verso oggetti che siano solo economici, il fondo del barile per così dire, ha lo stesso svantaggio di comprare oggetti con prezzi altissimi premium che sembrano i meri e raggiungibili. Entrambi non sono la soluzione. Acquistare una macchina da caffè spesso da 30 euro o acquistarne una da 3.000 euro non hanno nessun vantaggio in entrambi i sensi. La utilità sta solitamente nella terra di mezzo per citare Tolkien e dobbiamo essere noi capaci di capire in quella terra di mezzo quale sia l'oggetto che possiamo permetterci in base alle nostre possibilità. Ricordo quando da piccolo i miei genitori per risparmiare mi compravano delle scarpe da tennis da 10.000 lire e poi dopo 3-4 settimane prima di tutto cominciavano a puzzare come un cadavere con la sola che si scollava dal resto della scarpa. Il nostro oggetto deve durare nel tempo e non deve costare un occhio della testa. Non è un'operazione complessa e non è impossibile ma dobbiamo noi entrare nell'ottica di non spendere troppo semplicemente pensando di fare un risparmio iniziale. Si tratta invece di fare un risparmio ponderato e ragionato. Alla larga dai parenti. L'invita del pene è uno stadio teorizzato da Sigmund Freud riguardo allo sviluppo psicosessuale femminile in cui le ragazze provano ansia quando si rendono conto di non avere un pene. Freud considerava questa realizzazione un momento determinante in una serie di transazioni verso la sessualità femminile matura. Nella teoria freudiana lo stadio dell'invidia del pene inizia il passaggio dell'attaccamento alla madre alla competizione con la madre per l'attenzione e riconoscimento e l'affetto del papà. La reazione parallela alla realizzazione di un ragazzo che le donne non hanno il penno e l'ansia da castrazione e in questo possiamo parificare in senso lato il nostro rapporto con le persone che ci circondano. Parenti serpenti o anche amici serpenti che molte volte non sono così per scelto per comportamenti che siano contro di noi ma per l'influenza negativa che possono generare nei nostri confronti al loro insaputa. Vedere uno zio che parla della nuova Porsche acquistata o di nostro fratello che ha comprato l'ultimo modello di iPhone possono generare in noi un'invidia, un senso di svilimento che ci impone psicologicamente di andare a copiare queste persone facendoci poi esporre economicamente oltre le nostre possibilità o facendoci ricordere al debito. Quello inutile, quello che ci sottopone a una pressione ancora maggiore perché il senso di insoddisfazione si va ad aggiungere a quello che è la nostra pressione psicologica di dover tutti i mesi coprire rate, carte di credito e altri strumenti di debito che ci mettono in una posizione di svantaggio economica. Questa situazione in persone, ed io sono stato una di quelle che in periodi infattili hanno percepito o vissuto una situazione di scarsità economica e per cui hanno cercato di colmare questo vuoto con il senso di imitazione nei confronti di persone che percepiamo come più realizzate dal punto di vista economico. Bene fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di queste mie considerazioni? Se questo video è stato di tuo credimento ti chiedo per cortesia di supportarmi veramente con pochissimo lasciando un bel pollice in su per farmi crescere qui sulla piattaforma e per far piacere anche all'algoritmo di youtube. A te costa un attimino ma per me significa veramente il mondo. Se poi sei nuovo sul canale e non vuoi perderti nessun contenuto successivo ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche. Bene anche per oggi è tutto, non mi resta semplicemente che salutarti e dirti arrivederci a un nuovissimo video. A presto, ciao! Ciao!